Tricipiti e petto Ciao Corer! Questo è un video bonus dove alleneremo il nostro petto e i tricipiti. So che non ti piace molto allenare la parte alta, ma ogni tanto dobbiamo farlo. Vediamo insieme gli esercizi che faremo. Incline press, pull over, close grip dumbbell press and seated twisted press. Imposta l'interval timer con 30 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 8 round. E buon allenamento! Questo è un esercizio per il petto. Mi raccomando, sempre addominali contratti. Guarda in alto. Movimento controllato. Un manubrio solo ora. Mi sposto un po' in avanti. Controllo sempre il movimento. Brava! Ricordati di respirare. Forza che lavoriamo un po' la parte alta. Dai, ci siamo quasi. Ok, stiamo sempre in questa posizione. E ora lavoriamo un po' i nostri tricipiti. Bravissima, spingi verso l'alto. Senti i tricipiti bruciare. Dai, ci siamo quasi. Ultimo esercizio. Sei pronta? Manubrio indietro, schiena dritta. Addominale contratto. Brava, continua così. Forza! Dai che siamo quasi alla fine di questo round. Ok, prendiamo l'altro manubrio e ci prepariamo per il prossimo esercizio. Si riparte da capo. Su. Respira. Mai in apnea. E' importante lavorare anche la parte alta ogni tanto. Pronta? Preparati. Via. Dai che abbiamo quasi finito. Forza, continua così. Brava! Controlla i movimenti. Forza! Rimaniamo sempre in questa posizione. Penultimo esercizio. Via, spingo in alto. So che questo, in questo esercizio, bruciano tantissimo i tricipiti. Devi essere contenta perché vuol dire che lavori bene. Forza! E ora mi siedo per l'ultimo esercizio. Ricordati l'addominale contratto e la schiena dritta. Dai che abbiamo quasi finito. Resisti. Brava! Ancora pochi secondi. E abbiamo finito il nostro workout bonus. Abbiamo fatto anche questi 5 minuti per lavorare i nostri tricipiti e il petto. Non è stato male, vero? Ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube e cliccare mi piace sulla pagina Facebook. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!